Invece di un dolce particolare che io conosco per via di un mio amico pasticcere di Tabiano che si chiama Claudio Gatti, che è la focaccia. La focaccia noi siamo abituati a pensarla salata, invece nasce come un pasto derivato dal pane. In questo caso la focaccia di Claudio Gatti, che ha diverse tipologie anche questa, però è un dolce tipico della zona del Parmense, per lui è di Tabiano, quindi è vicino Parma. E' un dolce lievitato, quindi un pan brioche, diciamo così, con molto meno burro rispetto al panettone, ma farcito allo stesso modo con frutta candita, uvetta, zucchero. Ma Claudio la fa con albicocche, ananas e vecchie, oppure ne fa una variante buonissima che si chiama dolce. Maledetta! Si chiama dolce duchessa. Ce la spedisca, la prego! Il dolce duchessa è fatto con gocce di cioccolato e crema di zabaione, e devo dire che vale veramente la pena, perché è un prodotto eccellente. Devo sceglierne uno in questo periodo. Dolce duchessa. Vincenzo, ok, Claudio Gatti, dolce duchessa. Ho appuntato. Appuntato, appuntato. Andremo a cercarlo, andremo a cercarlo, Atenaide. Grazie mille, ti vogliamo bene, ti vogliamo alla prossima. Intanto ti dedichiamo una canzone, che è la prima canzone della nostra puntata. Ovviamente più tardi avremo, se riusciamo a riprendere la linea, i pupi di sulforo vincitori del premio De Andree a Roma, al Piper, che sono la nostra colonna sonora, la nostra sigla, con la canzone Lime Parole. Ma a te dedichiamo, alla nostra prima ospite di questa puntata, questa canzone che Katia ci annuncerà. Noi ti salutiamo, Atenaide, un caloroso abbraccio. Alla prossima, ciao ciao. Fedez, Egeax, Assenzio. Ciao, ciao, ciao. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato, chi dice marchiato, chi dice macchiato, l'indelebile c'è solo un destino segnato. Cercavi conforto in un uomo contorto, ma il fato beffardo ed il fiato è già corto. Per noi non c'è cura, non c'è medicina, se poi mi sento solo quando mi sei vicino. Coscienza lava secco, una doccia di sangue freddo, sono talmente perso che non trovo più me stesso. Nulla accade da nulla, ne son certo, la mia ambizione ha superato di gran lunga il mio talento. Si potesse cancellare tutto il male, lo berrei come Assenzio stanotte. E quante volte avrei voluto urlare, ma sono rimasto in silenzio. A pensare alle cose che ho perso, ad immaginare fosse diverso. Non mi guardo da mesi allo specchio e da un po' che sospetto che dentro al mio flesso ci sia quella maschera che mi hanno messo. Come un alieno per tornare a casa Punto alle stelle, sono a metà strada Da bambino ero felice quando nevicava Adesso blocca il traffico, rovina la giornata In mezzo a una folla di voci che acclama Avere un radar e sentire solo quella solitaria che infama Che poi la fama non ha utilità né importanza Quando vedi chi ami andare via sull'ambulanza E allora ho chiesto scusa al cielo per la mia vita intera Mentre l'infermiera le infilava i tubi nelle braccia Ho pregato Dio prenditi i soldi, la mia moto e la carriera Ma non portarti via la mia ragazza In un attimo solo capire veramente quello che conta Realizzare per tempo che nessuno vive per sempre Quante domeniche a case ne angoveri invece che andare a trovare la nonna Adesso mi manca della dolce vita, me ne vento amaramente Perché quando corri per vincere non vedi quello che perdi Tua mamma chiama in ufficio, tu rispondi fretta e coi nervi Tra chi è troppo avanti e chi arriva in ritardo, comunque nessuno è in orario Io voglio tagliare la corda più che volere tagliare il traguardo Se potesse cancellare tutto il male lo verrei come assenzio Stanotte e quante volte avrei voluto urlare ma sono rimasto in silenzio A pensare alle cose che ho perso, ad immaginare fosse diverso Non mi guardo da mesi allo specchio e da un po' che sospetto che dentro il riflesso Ci sia quella maschera che mi hanno messo Più leggeri della cenere Vogliamo via se il vento soffia forte Più preziosi di un diamante che Diventa luce quando fuori è notte Divento luce se la fuori è notte A sentire Ciao Ed eccoci qua, ed eccoci qua Guarda Katia, un'intervista straordinaria, ti è piaciuta? Molto interessante devo dire Molto, molto interessante, professionale E ringraziamo ancora Grazie, Atenaide Arpone, grandissima giornalista ed esperta di marketing E diciamo conoscitrice del food a livello italiano E non solo perché lei è stata anche all'estero, in Giappone Grazie ancora Atenaide, ti vogliamo la prossima volta con noi Bellissima canzone questa, Assenzio di Fedez Ti piace? È qualcosa di diverso rispetto a dei tormentoni È un successo che va molto ultimamente Però è diverso rispetto ai tormentoni estivi E quelle cose insomma che mi si vorrei Ma non posto Mi dispiange ma non posto Perché ridi? Perché mi guardi Perché mi guardi Vincenzo sempre nella faccia e ride questo? Quello no C'ho la faccia diciamo da cabibbo Un nuovo cantante C'ho la faccia da cabibbo La perle doti canore Prossima canzone Andiamo avanti L'annunci tu? Dai, te la lascio a te Prego Katia Grazie Con Malika Ian Senza far sul serio E l'ascoltiamo qui diretta su Tinkiter Radio Tele Locale C'è chi aspetta un miracolo E chi invece è l'amor Chi chiede pace è un sonnifero Chi dorme solo in metro Lento può passare il tempo Ma se perdi tempo Poi ti scappa il tempo L'attimo Lento Lento come il movimento Che se fai distratto Perdi il tuo momento Perdi l'attimo E chi guarda le nuvole E chi aspetta il telefono Chi ti risponde sempre però Chi non sa dire di no Lento Lento può passare il tempo Ma se perdi tempo Poi ti scappa il tempo L'attimo Lento come il movimento Che se fai distratto Perdi il tuo momento Perdi l'attimo Tu non lo sai come vorrei Ridurrei tutto ad un giorno di sole Tu non lo sai come vorrei Saper guardare indietro Senza fare sul serio Senza fare sul serio Come vorrei Distragni e ridere C'è chi si sente in pericolo C'è chi si sente un eroe Chi invecchiando è più acido Chi come il vino migliora Lento può passare il tempo Ma se perdi tempo Poi ti scappa il tempo L'attimo Lento Come il movimento Che se fai distratto Perdi il tuo momento Perdi l'attimo Prendi l'attimo Oh Oh Tu non lo sai come vorrei ridurre tutto ad un giorno di sole Tu non lo sai come vorrei saper guardare indietro Senza fare sul serio, senza fare sul serio Come vorrei distrarmi e ridere Grandissimo successo di Malika Ian, precisamente dell'estate del 2015 Ma rimanete con noi perché tante novità ci aspettano Mi raccomando perché non vi annoierete E pubblicità Ci vediamo tra poco Radio Tele Locale Spot Caffè Centro, tavola calda, pasticceria e gelateria, Corso Umberto, Chiaramonte, Gulfi Kefap, lavorazione marmi di Gabriele Cugnata, incontrate quattro cappelle a Chiaramonte, Gulfi Caffè Umberto, pasticceria e gelateria, Corso Umberto, Chiaramonte, Gulfi Risica, pizzeria, in via Corallo, Chiaramonte, Gulfi Contatta Risica allo 0932 92 24 05 Astag, chi non risica resta di uno Silvio tipografia, servizio stampa digitale, via Mongebello, a Ragusa Pasticcerie del Corso di Vittorio Micrusso, Corso Umberto, Chiaramonte, Gulfi Prima fila dei Fratelli Spagna, all'interno ampia scelta di birre artigianali Veniteci a trovare, Corso Umberto, Chiaramonte, Gulfi In piazza Duomo, Chiaramonte, Gulfi, Caffè Roma di Sebastiano D'Angelo Gelateria, pasticceria e tavola calda Per informazioni 0932 928 068 Luzio Davola, impianti elettrici civili e industriali Via Fiera 43, Chiaramonte, Gulfi Cutrone Vittorio, pittore di Levia, Gulfi 225, Chiaramonte, Gulfi Minimarket di Silvio e Cinzia, Corso Umberto 34, Chiaramonte, Gulfi C'è cocò, bottega gastronomica, vieni così a 4, Chiaramonte, Gulfi Asta, da cocò si sta bene! Su le mani! Vetreria Mediterranea, lavorazione vetropiano, produzione vetrocamera, montaggi, sabbiature e arredamenti A Chiaramonte, Gulfi, per informazioni 392 17 46 85 6 Magnificio San Giuseppe di Salvo Vullo All'interno troverete una vostra scelta di tavola calda, biscotti e pane realizzato con grani antichi della nostra tradizione Genuinità e gusto per voi! Veniteci a trovare in via Sanzone a Chiaramonte, Gulfi Olioificio Melfi Estrazioni olio a freddo tramite più moderni funzionali impianti di molitura Olioificio Melfi si trova a Chiaramonte, Gulfi, incontrata a Fontanazza Per info 0932921 050 A Fontana, ristorante e pizzeria Viene gustare la nostra specialità, lo scaccione Per informazioni e prenotazioni contattare lo 0932 927 768 Contrada, Fontana e Chiaramonte, Gulfi, servizio a domicilio K-Color, finiture interne ed esterne, sistema tintometrico, decorativi e cartato apparati Realizziamo il colore della vostra scelta in soli 5 minuti Corso Genne di 139 Chiaramonte, Gulfi, per informazioni 0932 925 279 Immerso nelle ridenti campagne e blee, sorge l'agriturismo Valle di Chiaramonte Una location ideale per organizzare ricevimenti, eventi e per notare Piano Zacchi, Chiaramonte e Gulfi Oggi ho proprio voglia di... Ah, ecco! Un bel panino o una crepe? Voglia di... Panineria, creperia di Giovanni Terlato, piazza Santissimo Salvatore a Chiaramonte, Gulfi Stanca del solito taglio, del solito colore, del solito stile Vieni nel nostro centro Gioel di Grazia La Cognata, in via Cappella a Chiaramonte, Gulfi L'agriturismo Parco degli Olivi propone una vasta gamma di menu Sia di carne che di pesce, legumeria e giro focacce Dedicandosi alla tradizionalità dei sapori siciliani L'agriturismo Parco degli Olivi si trova incontrato a Morana, a Chiaramonte e Gulfi Pizza alternativa? Vieni a trovarsi al cortile Chiaramonte, Corso Umberto 110, a Chiaramonte e Gulfi Il 24 dicembre Il 24 dicembre Venite a scoprire la meraviglia della notte più magica dell'anno Centro Christmas 2.0, la notte di Natale, al Caffè Centro di Chiaramonte e Gulfi Un evento unico organizzato da Radio Tele Locale Non mancheranno di certe le sorprese Radio Tele Locale solo al Caffè Centro nella notte di Natale Che bello, ma che bello, pure lo spot natalizio And so this is Christmas And happy new year Ma lei si che ha delle dotiche, non è pari allo giochino d'oro C'è la scupola, c'è la scupola Ma certo, ovviamente E mi piace, non è pari allo giochino d'oro E mi piace, non è pari allo giochino d'oro